non è proprio che mi sento proprio su buono popolo perché c'è proprio il dottore ha detto che a me mi piaceva la frutta, mi piaceva la frutta perché c'è il piede a freddore e proprio l'influenza c'è la frutta, c'è la mella, non la mangio, mangiata la mella però non è caso, mi sono assaggiata chi sa lì e poi stamattina c'è oggi la giornata c'è altro po' di frutta, ancora, 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 perché poi non si influenza senza la mano, un pozzo certamente recupera senza frutta, perché il medico ha detto che la frutta c'è la vitamina c'è, non c'è bisogno di medicina, vieni di questo, vieni di quello, basta la frutta, se ne vanno a comprare è meglio per tutti, meglio la cucina, perché poi c'è più frutta mi mangio, più più posso stare bene e mi alzo qui dal letto, però poi se non ne mangio, c'è un problema, allora c'è proprio un bravo frutto che serve, la frutta serve perché c'è proprio, ha detto il medico, ho detto io, vitamina c e andiamo avanti, questa è una... è una... Grazie a tutti.